Musica Bella ragazzi, qui è Gabo di Square Red Ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo qua nel nuovo live Una nuova rubrica che ho intenzione di fare su Prototype 2 ragazzi La nuova rubrica sta nel... si chiama appunto come dovete dal titolo Squartare che passione Perché farò vedere un po' di minuti live, non so quanti Adesso vedremo 10-15 minuti di puro cazzeggio su Prototype 2 ragazzi Vi farò vedere un po' tutte le dinamiche del gioco Ma intanto iniziamo subito a partire Che là c'è un campo e voglio riuscire a farlo distruggere tutto come mio consueto fare Adesso vediamo qua cosa bisogna fare per distruggere tutto Ok, ho capito cosa bisogna fare Tipo questo E se cazza C'occhia Sono imbattibile ragazzi Mettiamelo Ops Oh cosa ci sono i cotolli Tassalata No vabbè dai Così no però cazzo Così no, così no Oh oh Cosa succede? Sei giù? Dai 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 Andiamo Ci arriva? No Cazzo Cazzo Ok Ti sto indebolendo eh Bastardo Guarda che combo Opa la E mo' puoi solo succarmi il cazzone Boh Finito Ok Ora sto facendo una missione secondaria E devo riuscire ad entrare In una base insomma Quelle missioni che Per chi ha product type appunto Per chi se lo comprerà dove Praticamente dovete Acquisire delle informazioni E poi andare Appunto nel determinato posto E fare più cisti possibile Più Nascosto possibile Ecco siamo Ecco tipo questo Ok Qua Sono missioni divertenti Queste insomma Non è male Ecco bene Devo trovare questa Marcella Walsh Adesso Marcella Walsh Marcella Ma è un uomo Una Ragazzi Numero uno Eller Davvero Fa sputtanare da ridere Adesso devo raggiungere Una posizione elevata In modo tale Che io possa Col mio fiuto Da cacciatore Trovare appunto Questa Marcella Walsh Andiamo qua sopra Ok Vediamo Dovrebbe essere là Ok E' là Trovata Ah ah T'ho trovato Dovresti essere qua Puttanaccia Eccoti E' là E' là E' là E' là Oppala Che succede Beh Ricordi E ti ho beccato Manca te Ok Aggiornamento Missione Blacknet Consegna carico 15G Ne prende carico La blackface Della gente Che è in portata Di mano Rubalo subito Ok Dobbiamo andare A rubare Un camion Che è che mi rompe Il cazzo Sarà meglio Cercare Grazie Grazie Ave tutto Un sapore Delizioso Anche tu Guara Sbamme Ok Perfetto Andiamo Ma siamo A New York Ragazzi Siamo Nella Zona Verde Guardate Che cosa Mi diverte Un sacco Fare Fare Il bullo Guardate Ehi tu Donna Levati Dal cazzo Ciao Che cosa C'hai tu Fai il furbo Stronzo Ora ti faccio Vedere io Vediamo fin Quando ti Posso Consumare O lanciare Vediamo 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 Via Yeah Mamma mia Ragazzi Volato via Parecchio lontano Sto froso Dai C'è un elicottero Scatola nera Minchia Ha fatto un bel macello Col bagaglio Ok Devo recuperare I contenitori Di mutaggine Via Corre Guardate ragazzi Quanto sono bravo Io a correre Questa Ok 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 Di show Cazzo Sali Sali Corli Mercer Eh si Mercer Aller Comunque ragazzi Non vi rivelo nulla Sulla storia Però Mercer Che era un bel pezzo Di merda Ve lo dico Chiaramente Aller Troppo Possente Corre Vai 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 Aller Ragazzi Ragazzi non mi contattate Chiedete me lo consigli Prototype C'è un video dove Dice che Si intitola da prendere Quindi E' inutile che mi chiedete Se devo poter prendere o no E sapete come la pensa Me la penso Insomma Vai vai Aller Vai Ok mi stanno Bombardando un pochino Corre Corri Corri Aller Corri Ok Troppo veloce ragazzi Ok Sfruttiamo questi altri 6-7 minuti Per Mutazione ottenuta Predatore Ottimo Vediamo Carica proteica Bonus del 25% Sulla salute Ottenuta dai consumi Questo qua mi sembra Di massa in più Non mi interessa Questo qua Ok Perfetto C'è una scatola nera Qui Qua Trofeo Intanto Ok Le scatole nere Si trovano un po' In giro Dappertutto Diciamo Adesso Voglio tornare Tornare in quella zona Militare Che c'era un brutto Oppure c'era qualcosa Da liberare Insomma Ok Non c'è più Mi sa che non c'è più Beh ragazzi Per Agli e tardi Un po' Il modo di giocare E tutto Vi farò vedere Un po' Come si fa A fare del macello Mi chiesto qua Sguardo attacco In arrivo Cazzo Come faccio Eù Ezzata Mamma mia Guardate quanto sangue Siete in parecchia Che volete morire oggi Siete in parecchia Mi chiesto qua Se te lo restituisco pure In me Non c'è problema Ok In fuori Gazzà! C'è okia! Spadam! Cazzo, mi stanno salando Aia, aia, aia Via, via Mercer Eh, sì, Mercer, ancora con sto Mercer Minchia Aller, fai a modo Dai, cazzo, con sto elicottero Ok, perfetto Dai Vieni qua, biello Mamma, vieni qua Aia Ah, ah Emo Colpo finale Ah, ah Vi ho salato Ancora vivo stai Aia Via Aia, dove sono finite le tue gambe? Ah, cazzo Cazzo Mamma mia Mamma mia ragazzi Che macello Ah, ah Ah, ah Ora rubiamo un bel caro armato Vai al R6 Numero 1 Ok Ok Come la mettiamo Come la mettiamo Guarda ci fa Guarda l'attacco in arrivo Oh, oh, no Oh, no Oh, no Operazione sul campo Completata Ok, devo far fuori l'elicottero Uno E due Usciamo Scappiamo Concludiamo Questo video Vi ho salato tutti Eh, bastardi Scatola nera Nelle vicinanze Dov'è? Lo sento io Rumora Deve essere Quassù Ok Perfetto ragazzi Con il recupero di questa scatola nera Vi lascio il mio primo live commentary Una nuova rubrica Che comunque non durerà tantissimo Ragazzi Vi dico Saranno tra quattro episodi Massimo E Con questo episodio ragazzi È tutto Lasciate un bel mi piace Un bello commento E un bello mi piace Come dice Exu E dite nei commenti Magari Cosa ne pensate Di questa serie E Un saluto qui Ragazzi De Gabo di Square Bella raga Grazie a tutti